Buonasera e bentornati a Rotocalco 264, il programma di informazione del fine settimana. Allora, tanti gli argomenti questa sera che dovremo affrontare. Partiamo subito con il primo collegandoci con l'avvocato Gianettore Gassani, matrimonialista nonché presidente dell'Ami, l'associazione Matrimonialisti Italiani. Avvocato, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, avvocato. Allora, lei è un super esperto di matrimoni, di diritto di famiglia, diritto delle suscezioni, insomma un grandissimo curriculum, tra l'altro è consulente anche del Ministero della Giustizia. Ecco, l'ultima sua creatura, la guerra dei rossi. Eccola qua, il libro che racconta di famiglie e di violenze, prima e durante il Covid-19. Allora, avvocato, durante questo periodo di Covid si sono, diciamo, amplificati i conflitti di famiglia? Beh, diciamo che c'è stata un'emergenza familiare piuttosto preoccupante nel nostro Paese, proprio in ragione della pandemia. Tanto è vero che c'è stato un aumento del 70% delle violenze intrafamiliari, secondo le stime dei centri antiviolenza. un aumento del 15% dei femminicidi. Si calcola che ci sarà un 30% in più di separazioni rispetto al 2019 e soprattutto un altro dato che comunque fa riflettere, ma questo non dipende dalla violenza, ma dall'emergenza, che 30.000 matrimoni sono saltati. Diciamo che l'emergenza familiare è stata grave, almeno quanto quella sanitaria ed economica. Come è cambiato il modo, avvocato, di far finire una famiglia rispetto al passato? Guardi, quest'ultimo periodo, purtroppo, lo stare insieme sotto lo stesso tetto, magari in 70 metri quadrati, in una situazione surreale, ha fatto sì che purtroppo la violenza sia stata veramente la prima ragione della fine di moltissimi matrimoni. L'Italia è cambiata comunque, al di là della pandemia. Negli ultimi 50 anni ci sono stati profondi cambiamenti culturali del nostro Paese. Basti pensare che ormai, per esempio, nel nord 450 coppie finiscono in tribunale su mille, mentre nel sud 200. Questo segna anche un po' la profonda differenza tra nord e sud, anche da questo punto di vista. C'è un atteggiamento consumistico rispetto al matrimonio, perché io non sono molto preoccupato dei dati delle separazioni dei divorzi, sono preoccupato del numero di matrimoni morti e fuggi, dei matrimoni dei perplessi sposi, che fu il titolo di un libro che scrissi dieci anni fa con la prefazione di Paolo Guzzanti. Cioè, ho fatto un esame su quello che è l'approccio degli italiani rispetto al matrimonio, rispetto a una scelta così importante di matrimoni celebrati dopo due mesi di fidanzamento. Certo. O di persone conosciute in chat o nelle agenzie matrimoniali. Sono matrimoni destinati alla fine, perché sono fatti senza consapevolezza. Quindi ci si sposa senza consapevolezza e con altrettanta mancanza di consapevolezza si va dall'avvocato e si dice basta. Anche perché avvocato, mi perdoni, ma nel periodo della guerra, voglio dire, più emergenza di quella, adesso ci nascondiamo tutti dietro al Covid, il Covid, la convivenza forzata in 70 metri quadri, ma una volta non avevano neanche veramente per mettere il pane sulla tavola, eppure le famiglie erano unite e si andava avanti. Quindi c'è stato proprio un cambio di mentalità. Lei non crede che Internet abbia dato una svolta proprio al modo di concepire la coppia? Ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio che il 40% delle infedeltà coniugali, per esempio, dipenda molto dai social network, che non sono soltanto un ritrovo per socializzare, è un ritrovo proprio per trovare nuove storie, storielle, anche amori. E noi avvocati lo sappiamo molto bene, perché ogni giorno in tribunale portiamo poi i documenti che provano di infedeltà avvenute attraverso i social, quindi o con fotografie, o con profili falsi, o con delle chat che riusciamo a recuperare, perché magari il computer era rimasto acceso. E quindi c'è una prova di... Le chat fanno testo all'interno di un processo per tradimento? Certamente sì, ovviamente non si può introdurre nel computer del marito o della moglie o sul cellulare, ma se lo lasci aperto e lo lasci a disposizione, questo è possibile. Da questo punto di vista la giurisprudenza ha chiarito che c'è un bilanciamento tra il diritto alla privacy, ma anche il diritto all'unità familiare e ai valori familiari. L'infereltà è un fatto grave, sebbene ormai piuttosto diffuso, e quando però sei preso con le mani a marmellata, in tribunale funziona diversamente. Non tutte le infereltà vengono sanzionate se sono la conseguenza di una crisi già in atto, ma se sono la causa di una crisi, sono sanzionate con la debito e addirittura con l'esercimento del danno, che lo spiego molto chiaramente nei miei libri. E le infereltà ormai riguardano anche gli over 65. Noi pensiamo sempre alla crisi del settimo anno, ma non è vero, oggi c'è anche la crisi del cinquantesimo anno. Una coppia su quattro ha superato i 65 anni. E quindi si tratta di un fenomeno nuovo, che io quando ho iniziato a fare l'avvocato trent'anni fa non conoscevo. Certo. Tra l'altro l'avvocato, il suo libro mi permetta di dirlo, è veramente delizioso, a parte le parti molto serie in cui si parla di violenze sui minori, è una cosa veramente molto seria, ma il manuale del perfetto fedigrafo è veramente meraviglioso. come la persona, come l'uomo messo di fronte all'evidenza continui a negare. E lei che accoglie queste mogli, insomma, che devono dare la notizia e cominciano a prenderle molto alla larga, e poi alla fine parlano che è una richiesta di separazione per tradimento. Ecco, ma veramente i coniugi si comportano così? Cioè, l'uomo traditore fino alla fine nega l'evidenza? È la parola d'ordine, negare l'evidenza sempre. Anzi, più evidente più bisogna negare. Ma mi capitano tutti i giovani, cose si ratti. Cioè, il tradimento del maschio è veramente molto molto banale. Mentre il tradimento della donna è più scientifico, è spesso anche legato a momenti di sentimento, perché poi la donna ha una propensione immediata alla relazione. L'uomo no. L'uomo è molto mordi e fuggi, è molto più bestiolina da questo punto di vista. E io da avvocato matrimonialista ormai ho un panorama proprio preciso della situazione. E sì, nel libro io spiego questo. Devo anche dire con grande soddisfazione che siamo già alla terza ristampa in dieci giorni. Sì, sta vendendo tantissime copie. Beh, perché ovviamente è un libro ben fatto, come lei, insomma, è usuale fare, ma soprattutto che dà uno spaccato della società in maniera molto precisa. Ecco, ma le convivenze di fatto, che sono un altro aspetto dei tempi moderni, potremmo dire, sono simili al matrimonio? Cioè la giurisprudenza anche in questo caso si è orientata? Non tanto per quanto riguarda le infedeltà, perché nelle convivenze di fatto non c'è l'obbligo di fedeltà, come non c'è neanche nei giorni civili, anche se sono sovrapponibili. Non c'è l'obbligo di fedeltà? No, no. Però le dinamiche sono fondamentalmente le stesse. Sono sovrapponibili perché magari hanno un mutuo da pagare, hanno messo al mondo figli, conducono una vita normale, nessuno potrebbe immaginare che non sono sposati. Ovviamente quando finisce la coppia il problema riguarda soltanto la casa e l'assegnazione dei figli, ma non riguarda né il mantenimento per il compagno più debole economicamente, né l'infedeltà, quindi l'addebito. Tenga presente però che è possibile con la legge Cirinna, la legge 76 del 2016, anche fare i patti di convivenza, che non sono i patti prematimoniali, e quindi si può stabilire anche un contributo economico per il compagno o la compagna più debole economicamente in caso di fine del rapporto. Ok. Ma ecco, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, può essere operata una riduzione per periodo Covid? È stata usata o è stata data questa possibilità? Beh, l'emergenza economica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto per quanto riguarda le partite IVE c'è stata. E non è negabile che chi ha una libera professione o un esercizio commerciale abbia avuto una grossa compressione ai propri redditi. In questo caso è stato possibile richiedere provvisoriamente una riduzione proporzionale all'assegno di mantenimento. Mi sembra anche ovvio. Ovviamente c'è qualcuno che ci ha marciato, c'è qualcuno che ha utilizzato la crisi economica per provarci a ridurre l'assegno, ma in altri casi mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Insomma, una crisi spaventosa per il suo economico del nostro Paese. L'assegno di mantenimento si deduce anche se l'ex risiede all'estero? Allora, sì, si paga anche se l'ex risiede all'estero. Il problema è che la Cassazione ha stabilito una serie di principi in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, soprattutto. Quello di separazione viene concesso, ma sappiamo che poi i tempi della separazione oggi sono molto ridotti rispetto al passato, quindi sei mesi per le consensuali, dodici mesi per le giudiziali. L'importante è non convivere, non avere una nuova relazione, e su questo io avrei qualcosa da discutere. Perché, avvocato? Perché? Perché penso che siccome molti assegni sono compensativi, per esempio se una moglie ha ottenuto, o qualche volta un marito, molto più raramente, ma può capitare, un assegno compensativo o perequativo, in ragione di tanti anni di sacrifici che hanno prodotto la crescita umana, sociale e professionale dell'alto conege più forte, non credo che poi se questa donna, una volta divorziata, dovesse innamorarsi di un altro uomo, meriterebbe poi di perdere l'assegno per questo motivo. Cioè non possiamo imporre il voto di castità alle donne divorziate con l'assegno. Certo. Il problema è un altro. Se la Cassazione ha stabilito il principio secondo cui una nuova convivenza può determinare un cumulo di erediti, e cioè la convivenza nuova della donna è con un uomo ricco, o comunque benestante, che in qualche modo vicaria il contributo dell'ex marito, sono d'accordo. Ma se una moglie o un uomo, un marito, dovesse innamorarsi di un disoccupato, un cassi integrato, che facciamo? Ne facciamo una questione morale. In quel caso non ci sarebbe il cumulo di erediti, ci sarebbe solo l'innamoramento di una persona. Quindi secondo me la Cassazione arriverà sicuramente a fare delle distinzioni, come sempre fa, perché grazie alla Cassazione c'è stato certamente un balzo in avanti a livello di cultura giuridica del nostro Paese. Avvocato, lei è famosa per la sua grande esperienza, che dimostra in tribunale, ma insomma nessuno la mette in dubbio. Ma nella sua categoria però esistono gli avvocati che fomentano queste coppie a litigio. È d'accordo? Sì, è vero. Purtroppo è vero, ma è vero che questo avviene anche nel mondo degli psicologi, avviene anche nel mondo dei magistrati, che spesso non sono in grado, non sono all'altezza di gestire certe vicende, perché magari sono bravissime in altre materie. Avviene in tutto lo scibile umano, in tutte le professioni umane. È chiaro, ci sono anche al nostro interno, e non lo nego affatto, pur essendo il presidente di un colosso come Lami, non sono certamente un avvocato corporativo. Per cui ammetto che anche al nostro interno c'è una questione morale che dobbiamo risolvere, ma ammetto anche che la seconda maggioranza degli avvocati è all'altezza del compito, tanto è vero che poi nel 70% dei casi le separazioni e i divorzi si risolvono con delle consensuali. Quindi significa che c'è stata una grande capacità mediativa da parte degli avvocati. Certo, vogliamo ricordare avvocato che lei all'inizio non voleva fare l'avvocato perché aveva il compianto papà Dino Cassani, che era un avvocato penalista molto famoso, che purtroppo venne ucciso dalla camorra, e quindi lei non voleva seguire le orme di suo papà. Poi invece ha cambiato idea, come mai? Ma guardi, io l'ho fatto più per un fatto sentimentale che per vocazione. Volevo fare l'architetto e ho studiato i primi anni di giurisprudenza con grande sforzo, un grande sacrificio. Insomma, non era quella la mia vocazione. Poi piano piano ho cominciato a innamorarmi del diritto, soprattutto quando ho conseguito la laurea, e ho cominciato però a fare l'avvocato senza nulla pretendere. Cioè senza pensare di fare chissà cosa. L'ho fatto con grande serenità, con serietà ma con serenità. E ho detto come viene, così la prenderò. E io ce l'ho messa tutta. Mi sono trasferito a Roma, dalla mia città. Avevo pochi anni, ho cominciato a lavorare per studiare, perché all'epoca non c'era l'assegno di mantenimento per i figli sine die come oggi. Avevo una madre vedova, ho cominciato a lavorare, ho fatto il cameriere. Pensi che ho fatto il cameriere a Gaeta, al summit hotel, e ho servito Bruno Vespa al suo tavolo. Ah, infatti è vero che c'è una foto in cui lei serviva Bruno Vespa. Sì, sì. E poi quando mi ha invitato a Porta a Porta 30 anni dopo, pensi poi le parabole della vita è quasi un romanzo. Ma tutto può cambiare. Un cameriere del sud in un ristorante che poi riceve 15.000 lire di mancia da Bruno Vespa, e poi viene invitato. E diventa uno degli avvocati più famosi d'Italia. Ecco, sì, questa è una storia che la racconto spesso ai miei figli, e quando sono stato invitato da Bruno Vespa, porta a porta gli ho fatto vedere la foto in cui ero vestito a cameriere, con lui al tavolo, e lui ha detto, Presidente, ma è lei? Guardava la foto, guardava me. Questo è un po' anche lo spaccato della nostra generazione, perché quei camerieri che hanno lavorato con me in quell'albergo, chi è cardiochirurgo, chi è magistrato, chi è psichiatra, cioè si lavorava e si studiava, era un'altra Italia. Avvocato, lei ha anche divorziato, no? Insomma, lo sappiamo, ha dei figli, eccetera. Che cosa le hanno insegnato tutti questi anni in cui ha lavorato nelle separazioni e i divorzi? Che bisogna divorziare con stile. Ci sono dei percorsi di vita che possono finire, ma bisogna imparare a lasciarsi volendosi ancora bene. Ah, bellissimo. Mai lasciarsi con il disprezzo. Volessi ancora bene riconoscere che c'è stato un periodo della tua vita che hai vissuto con una persona che non puoi rinnegare. È come un capitolo di un proprio libro, non lo puoi strappare. Devi solamente prendere atto che magari finisci un percorso, ma devi sempre pensare che quella persona all'altra parte è la madre di tuo figlio. Certo, o il papà dei tuoi figli. O il papà e basta, c'è poco da fare. È la proprietà transitiva. Se non vuoi bene alla mamma, non vuoi bene neanche al figlio. E così se non vuoi bene al papà, non vuoi bene neanche al figlio. C'è poco da fare. Se arriviamo a questo ce la possiamo fare. In Inghilterra, nei paesi anglosassini, ultimamente addirittura si festeggia il divorzio. Cioè si chiamano a raccolta tutti gli amici, si fa un discorso, ci abbiamo finito questo matrimonio. Ma non ci rinneghiamo. Questi sono i nostri figli, questa è la nostra vita privata, sono i nostri segreti, ma continueremo almeno nel mutuo rispetto. Questo dobbiamo fare anche noi italiani, che invece siamo abituati a litigare senza figlio. Su tutto, su tutto. Ma infatti la parola che lei ha detto, stile, lasciarsi con stile, è veramente l'emblema di chi sa come si vive. Perché ovviamente non si può rinnegare un matrimonio, non si può rinnegare una storia, perché poi ci sono dei figli che sono le vittime inconsapevoli di situazioni che non andavano. Avvocato, io la devo ringraziare per averci dato questa perla di informazione, ma soprattutto La Guerra dei Rossi, che consiglio di leggere, perché è veramente un libro meraviglioso, dove ci si può ritrovare, ma soprattutto ci sono dei racconti veri che toccano il cuore. La saluta, Avvocato Giannetto Legastani, buon lavoro e grazie per tutto quello che fa per tutti noi. Grazie a lei. Grazie Avvocato, buonasera. Arrivederci, buonasera. Grazie a tutti.